Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo terzo appuntamento della rassegna letteraria Primavera con gli autori. Rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana e promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Olbia. Questa sera ospite della rassegna è Maria Efisia Meloni che presenterà il suo saggio dal titolo Il lavoro negato. Si tratta del risultato di una ricerca sulla depressione lavorativa che è iniziata nel lontano 1987 e che si è conclusa undici anni dopo nella clinica psichiatrica di Cagliari. Autori, autrici meglio, di questo libro sono la professoressa Nereda Rudas, psichiatra scomparsa due anni fa e appunto la professionista, la grande professionista, la psichiatra e psicoterapeuta Maria Efisia Meloni che ha racchiuso i risultati di questa ricerca nel libro Il lavoro negato. Intervengono a fianco all'autrice Simone Talai, assessore ai servizi sociali del comune di Olbia Luca Montella, avvocato e sindaco di La Maddalena avremo la compagnia di Nicolo Ruzzittu che ci intratterrà con un accompagnamento musicale e modererà l'incontro di questa sera Luisa Cardinale. Rivolgo a voi i saluti dell'assessore alla cultura Sabrina Serra che non è presente perché è fuori per ragioni istituzionali ringrazio Matteo Micozzi che è alla regia di questa serata la serata verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della biblioteca e lascio la parola a Luisa e vi auguro una piacevole serata in nostra compagnia. Grazie Sì adesso va, grazie, perfetto. Grazie al direttore della biblioteca e incominciamo quindi a presentare questo momento molto importante soprattutto facendo una piccola lettura perché il protagonista chiaramente è il libro e il lavoro negato, come ha detto prima il direttore, è scritto a due mani presente con noi la professoressa Maria Efisia Meloni, la dottoressa e Nereide Rudas che è mancata due anni fa vogliamo leggere quello che poi trovate sull'ultima della copertina della dottoressa Nereide ha fondato e diretto per molti anni la clinica psichiatrica dell'Università degli Studi di Cagliari nel 1997 ha costituito a Milano la società italiana di psichiatria forense di cui era presidente onoraria nella sua vasta produzione scientifica si contano oltre 300 saggi e 9 monografie tra i suoi libri vanno segnalati l'Isola dei Coralli del 97 premiata con la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica e l'ultimo un'indagine sul mulieridicidio ha rappresentato la psichiatria italiana in numerosi paesi Portogallo, Spagna, Russia, Argentina, Cina, Brasile nel 1993 ha ricevuto l'alto riconoscimento della prestigiosa American Academy di Psichiatria Entelo professore merito è stata presidente di diverse associazioni culturali tra cui l'Istituto Gramsci a Cagliari e quindi in questo momento poter sentire dall'autrice quello che è stato passato proprio gli iscritti e la conclusione di questo libro è in questo momento un'eccellenza per tutti dalla prefazione dedicato agli invisibili a chi non è nel lavoro e a tutte le persone a cui per motivi di sicurezza sul lavoro il lavoro è stato negato passo la parola all'avvocato dottor Luca Montella Buonasera a tutti grazie per l'invito grazie Fisi alla dottoressa Meloni che ha non so ancora perché scelto e deciso la mia partecipazione alla presentazione del suo libro ci lega un affetto personale questo non solo mi legittima ma mi onora anche il fatto di partecipare alla presentazione della sua fatica quando dico non so perché è perché a tutti gli effetti col campo della psichiatria almeno per quel che appartiene al mio mondo cioè al mondo prettamente giuridico un po' la deformazione professionale un po' l'ignoranza mi ha sempre portato a pensare che fossero degli strigoni che vanno lì a a dire cosa e perché secondo loro una persona è capace o non è capace però guardando bene il libro visto che ci si allontana molto da quell'ambiente ho detto proviamo a cimentarci in un intervento che possa essere di aiuto partendo dal presupposto che il lavoro negato è un episodio che della vita che tocca oramai sostanzialmente quasi la globalità dei soggetti a volte anche solo temporaneamente è facile cercare di parlare un po' di tutto il lavoro negato è è un argomento per niente spinoso ho visto che nel libro correttamente si parla anche del lavoro perduto e cioè aprendo quello sguardo verso chi il lavoro non l'ha mai avuto e chi nel dramma e questa è l'analisi che poi viene fatta dal punto di vista scientifico il lavoro poi lo aveva e non lo ha e lo ha perso e tutte quelle che sono le implicazioni cliniche e dicevo scientifiche su quel che riguarda la materia oggetto della dell'incontro di oggi non vi prometto non parlerò molto parlerò sieno dieci minuti giusto percorriere qualche punto di riflessione partendo più che dal lavoro negato dal lavoro in sé è certamente sulla bocca di tutti però in cosa consiste il lavoro è quel meccanismo che oggi ci porta a dover considerare l'esecuzione di un'opera l'esercizio di un'attività lavorativa in sé dietro un corrispettivo se noi torniamo molto indietro nel tempo e cioè quando l'organizzazione umana non aveva un tessuto sociale totalmente organizzato il lavoro pur sempre esisteva il lavoro come fatica perché ci si esercitava tutti quanti se andiamo a vedere dalla preistoria o comunque all'epoca antecedente ben antecedente a quella che possiamo considerare le prime civiltà si lavorava si lavorava per vivere ma si lavorava per sé stessi cioè il lavoro esisteva però la parte del corrispettivo non esisteva perché uno lavorava per sé si è visto poi nelle coltivazioni si è visto nell'allevamento ciascuno si esercitava con fatica in un lavoro prevalentemente all'inizio la parte dell'ingegno era meno interessante anche se l'essere umano era adottato già dall'epoca di una certa intelligenza per produrre che è un altro dei concetti importanti della parte del concetto lavoro per produrre per sé stesso nel concetto più moderno il produrre per sé stesso si è spostato nella concezione di tanti perché sono pochi quelli che producono per sé stessi in realtà si produce per altri dietro il pagamento di uno stipendio si vedrà che poi più si va avanti verso le civiltà un po' più moderne lo si vede nell'epoca greca lo si vede ma anche nell'epoca egizia poi nell'epoca romana la parte lavoro come strumento di impegno per sopravvivere e oggi ritorna moderno il concetto strumento per sopravvivere veniva affiancata non solo da tutti quelli che continuavano a lavorare per sé stessi ma anche da tutti quelli che lavoravano dietro una concezione che spesso aveva debordato dall'esigenza primaria lavorare talvolta per costrizione lavorare per costrizione e qui se andiamo a vedere un po' faremo un saltino sui significati anche etimologici si lavora si continua a lavorare ci sarà nella società greca nella società romana come c'era anche in quella egiziana chi era bravo a fare lo scalpellino per sé stesso per le piccole opere ci saranno anche quelli che venivano comunque ridotti al lavoro costretti al lavoro per spostare i carichi più pesanti e quindi si vede che questa parte del lavoro prendeva un bivio dove qualcuno continuava a lavorare per sé stesso o in maniera anche piacevole per altri qualcuno lavorava per altri in maniera per niente piacevole perché veniva costretto al lavoro nasce la schiavitù nasce la schiavitù e la schiavitù non era altro che lo sforzo incestuoso direi dell'uomo su se stesso di costringere qualcuno a lavorare come prestazione lavorativa dietro alcun corrispettivo se non il pane e l'acqua se non il pane e l'acqua per attrarre mano d'opera un po' questo viene trasportato nel momento in cui mentre prima si lavorava per sé stessi coltivando il terreno poi si scopre che qualcuno ha più terreno di quello che riesce a lavorare o prende qualcuno che lavora il resto e quindi lascia l'ingegno per guadagnare e lo prendo se lo pago o lo prendo se lo costringo così vanno avanti le civiltà il lavoro diventa costrizione in epoca romana alcuni lavoratori costretti poi venivano anche liberati perché da schiavi poi diventavano liberi e per liberarsi comunque dovevano rendere tanto lavoro così via si arriva e c'è c'è un cenno anche nel libro su come è visto il lavoro nei vari secoli all'epoca medievale dove anche lì il lavoro è un po' più artigianale c'è ancora chi si ingegna per fare per trovare qualche esperienza ancora non si è affrancati si arriva all'epoca delle schiavitù e dall'affrancamento della schiavitù ultima dell'America Nord e Sud America fino ad arrivare a Tempinozzi dove alla fine delle fiere ci si domanda se forse abbiamo superato quelli che erano gli estremi di una volta è un grande dubbio è un grande dubbio perché da alcune parti il lavoro è ancora a sofferenza e lo è sofferenza davvero se noi andiamo a vedere l'etimologia proprio del concetto lavoro il lavoro è ai tempi dei latini inteso come fatica nella traduzione letterale labor la traduzione letterale era fatica se noi andiamo a vedere come lo concepivano i greci con le radici dei verbi greci era più energia era intesa più come energia come l'erg e da lì vedete tutta la radice che porta all'energia se noi andiamo a vedere nel termine inglese deriva si sostiene anche questo dal termine greco d'energia il work doveva essere work e lo porta avanti se noi andiamo a vedere nell'epoca moderna ci troviamo che in Italia è lavoro nel francese e nel sardo e trabaco trabagà travagliare che ce ne sono tanti però nelle radici spagnole francesi e sarde il termine non è più solo fatica ma è travaglio cioè è un qualche cosa che invece di portare un po' lo riporta anche la traduzione italiana perché una persona laboriosa evoca un qualcosa di positivo è una persona laboriosa può diventare in senso negativo se io dico beh ci vuole un impegno davvero laborioso per risolvere un certo problema ma la cosa davvero simpatica è capire da dove invece il il travagliare da travaglio c'è anche in medicina il travaglio che è ben altro non deriva più da fatica ed energia ma si sostiene che derivasse da tripalium che non era altro che uno strumento di tortura erano tre pali che venivano incrociati spesso potevano essere confusi anche col gioco degli animali sui quali si potevano torturare le persone vedete che qualcosa ci porta ad avere comunque un concetto di lavoro che però ci porta dentro un po' pur sempre sofferenza arriviamo al punto detto che il problema non si risolve perché se ce lo portiamo ancora nel dialetto non v'è dubbio che oggi il lavoro nella società moderna ci ci evoca se lo andiamo a leggere sui giornali nella cronaca nelle discussioni sociali nelle discussioni sindacali sofferenza perché chi non ha il lavoro poi porta con sé dietro tutti quegli aspetti che sono benissimo analizzati nel libro di sofferenza psicologica psichica sui quali non ho neanche l'autorevolezza per intervenire ma anzi la mia presenza è stimolante per ricevere tutte quelle altre informazioni che la che la dottoressa Meloni ci darà su che implicazioni ci danno dall'altra parte il lavoro inteso in se stesso potrebbe evocare solo questioni positive nel momento in cui tutti fossimo dotati di un lavoro ma tutti di un lavoro non siamo per niente dotati non siamo fortunatamente non abbiamo quella fortuna questa sofferenza deriva come dicevo appunto sia per coloro che il lavoro lo hanno cercato e gliel'hanno negato sia per quelli che lo hanno perduto sia per quelli che lo hanno e lo hanno sbagliato hanno il lavoro sbagliato può esserci anche per quelli che hanno il lavoro eccessivo e il lavoro sfruttato perché sono tutte componenti che vedete come al solito portano dietro qualcosa di di triste di negative c'è anche il lavoro autonomo di coloro che cercano di organizzarsi per crearsi un lavoro e pur sempre vedete non hanno neanche però un datore di lavoro perché sono se stessi i propri datori di lavoro e credetemi il lavoratore autonomo lavora molto molte ore durante il giorno però siccome dipende da se stesso supera molto spesso anche i limiti della sua sopportazione mi sarebbe piaciuto fosse approfondito anche questo di come questa sofferenza psichica può arrivare all'eccesso di dipendenza da risultato da offrire a chi deve perché il fabbro che deve consegnare la ringhiera se la deve consegnare il giorno dopo magari ci lavora 16 ore eppure finirà stressato anche lui quindi c'è il lavoro stressante c'è il lavoro nero il lavoro nero che porta dietro tutta una serie di conseguenze diverse anche lì spesso con grandi illegittimità c'è il lavoro svolto nel sociale che porta dietro nella fase retributiva quella grande soddisfazione per fare una cosa per altri come il lavoro dei volontari tutte queste sono manifestazioni del lavoro vedevo cosa scriveva la professoressa Rudas ad esempio sulle perdite di lavoro quando parlava di gli effetti delle perdite lavoratore per il lavoratore delle perdite del lavoratore relativa a riduzione del reddito delle ripercussioni che queste hanno prodotto sotto la famiglia il contesto familiare perché poi alla fine risulta stressato io utilizzo impropriamente i termini perché poi con le fisiche bisogna stare attenti sulla terminologia perché stress per noi vuol dire una cosa per i clinici forse ne vuol dire un'altra io lo dico in termini uno stress che poi si ripercuote all'interno di tutto il nucleo familiare ma anche spesso non solo di chi vive in famiglia ma anche di altri genitori e parenti la perdita del ruolo professionale e sociale tutti quelli che lavorano gli stress da lavoro hanno poi anche delle componenti giuridiche molto importanti perdite di motivazione e condanni psicologici la perdita di capacità cognitive e pratiche insomma tutta una serie di conseguenze che poi noi ci portiamo dietro da tutti questi stress lavorativi mai come in questo periodo si sente parlare tanto di lavoro anche in termini giuridici ne vado velocemente a a chiudere in termini giuridici perché per noi abbiamo una norma bellissima ho visto il percorso storico di dove nasce tutte le anche le concezioni sia non solo filosofiche ma anche di altri esponenti della materia fino a Marx mi sarà sfuggito non c'è il passaggio previsto della nostra Costituzione che è un articolo bellissimo che è rimasto c'è una lettera vuota nel contesto sociale di tutti l'articolo la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro bella frase molto bella e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto io sto ancora cercando tutto quello nella vita di tutti i giorni che può portare a questo obiettivo ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta e la propria scelta un'attività una funzione che concorra o comunque in funzione al progetto materiale e spirituale della società io penso che mai come nel nostro ordinamento nella nostra realtà a tutti gli effetti ci sia norma più disattesa è vero che è cambiata l'esigenza lavorativa o comunque l'esigenza della prestazione perché si è passati col tempo da una prestazione più manuale a una prestazione più intellettuale oggi che parliamo di epoca moderna dove tutto avviene in maniera stata attraverso prestazioni che sono di alta specializzazione dall'internet a studi ingegneristici di particolari complessità più la vita sociale si complica meno è facile che tutti possano trovare attività lavorativa l'esempio classico è l'avvento di quei robot che sostituiscono il lavoratore nessun lavoratore sarà capace di produrre in precisione in quantità quanto un robot non ve dubbio ma non voglio fare una parte politica che tutti gli interventi che oggi vengono adottati è una mia impostazione personale il mio convincimento tutti gli interventi che vengono adottati di sostegno al lavoro in realtà sostegno alla sopravvivenza mediante corrispondizione di un import di un reddito senza che questo venga legato a un'attività lavorativa svilisce più che aiutare svilisce molto più che aiutare perché in fondo in fondo al lavoro e per il lavoro ci vuole un substrato di educazione di disciplina di ruolo sociale più la società è organizzata più è pacifica più il lavoratore lavora meglio rende molto meglio perché poi il frutto del suo lavoro è molto più apprezzato voi noterete che nei termini che spesso si adoperano per dire che una persona è davvero una brava persona è un bravo lavoratore è un buon lavoratore è un lavoratore infaticabile oggi questo dovrebbe evocare cose positive però se uno il lavoro non ce l'ha viene spesso scambiato per un fannullone ma se uno il lavoro non riesce a trovarlo se il lavoro gli viene legato se il lavoro lo perde non riesce a trovare quella sistemazione all'interno del nucleo sociale che gli permette di arrivare a quel concetto di dignità che è uno di quegli elementi che si perdono nelle fasi di stress e più tu sei portato dentro un mondo di dignità più all'interno del contesto sociale svolgi un ruolo molto più convincente cioè molta più autostima si è anche molto più più portato a dedicare il tuo tempo verso l'educazione dei figli perché comunque è assolto a un dovere primario che è quello di lavorare e quindi creare il reddito poterli vivere poterli campare come si suol dire quando mancano tutti questi presupposti ecco che va a cedere proprio la struttura oramai indispensabile della società in sé che si ripercuota all'interno della famiglia perché un disoccupato due disoccupati in famiglia i problemi dei genitori oggi sono sempre gli stessi troverà lavoro mio figlio l'ho mandato a studiare ha fatto le scuole superiori si è diplomato che oggi non basta più si è laureato ma troverà si è laureato e viva un minuto dopo che si è laureato dici e ora troverà il lavoro ce la farà si sistemerà perché i problemi di tutti i genitori se per quello per rivederlo nei genitori e me ne andrò spero di chiudere gli occhi che si sia sistemato sarò tranquillo quando vi sareste sistemati nel gergo comune tutto questo porta ad avere ad avere delle conseguenze verso le quali un po' tutti dovremmo dovremmo concentrarci un po' di più a tutti i livelli si vede molto spesso che la normativa evolve sulla sicurezza nel lavoro per cercare di capire che il lavoro non solo non venga sfruttato ma venga anche reso possibile in termini di sicurezza perché troppe sono le morti e via discorrendo per tornare al testo la parte che ha analizzato io ascolterò con molta attenzione ho visto che ci sono un sacco di di specchi insomma di di analisi dei risultati che vengono qui prospettati con delle schede dividendo fra uomo e donna quelli che sono i risultati e lì avrò molto interesse ad ascoltare come queste scale possano essere lette dividendo tra gli inoccupati maschi e femmine nei lati dell'ipocondria della depressione depressione che è quel male oscuro che ormai sta a mio giudizio sta invadendo la società perché è presente sostanzialmente ovunque ormai io non conosco persone che non abbiano un profilo ma anche sono transitori o temporanei di depressione in certi momenti perché ci sono i momenti di smarrimento che vengono sostanzialmente a tutti depressione nel termine che diciamo noi e FISA poi ci spiegherai quello che è però vedo ho tanti dubbi che bisogna poi rispondere ma sto cercando di attirare la tua attenzione per farci una lezione per giungere a quello che era tenete presente quanto sia difficile parlare con uno psichiatra a fianco perché poi è anche lì che è certo e lo è e lo è sono stato invece davvero molto attratto dalla senza l'invece revoco l'invece da quelle che sono le conclusioni cioè su dove alla fine si giunge sono delle frasi di constatazione visto che sono delle conclusioni ma delle quali io penso possono essere lo spunto per aprire non solo il dibattito ma anche costruire quel ponte sul dove arrivare il dolore fisico e morale mi è molto piaciuta a sta parte per la perdita del ruolo sociale correlato alla non occupazione pur tuttavia si prende coscienza con il passare del tempo di non avere un avvenire né un orizzonte verso il quale la persona si dirige e si pone degli obiettivi il pessimismo l'angoscia in alcuni casi le eventuali distorsioni cognitive che determinano un'alterazione del rapporto con la realtà il raggelarsi dell'azione sono altrettanto segni di un alterato rapporto con il tempo inoltre il ritmo dinamico della vita operosa che si svolge intorno guida il soggetto inesorabilmente ad una introspezione dolorosa e al confronto con se stesso e gli altri con conseguente deflessione del tono dell'umore sembra voglio essere un po' appena più simpatico sembra a volta di cadere nelle stesse cose anche quando si ha il lavoro questo stato depressivo questo stato depressivo smorza e talvolta annulla la capacità di iniziativa e le comuni reazioni il deprivato del lavoro ormai è gravemente compromesso dal punto di vista psicologico le conseguenze riguardano tutta la sfera quotidiana nei suoi aspetti affettivi interpersonali e sociali è una sintesi perfetta perché dice in dieci righe esattamente che cosa sta accadendo lo sforzo nel quale noi ci dobbiamo tutti concentrare come partire finalmente grazie al lavoro di Efisa della professoressa Rudas farlo diventare punto di partenza punto di partenza per arrivare a poter leggere io spero nel tempo giusto un nuovo libro su anche dal punto di vista psichiatrico come si esce da queste situazioni grazie grazie ringrazio l'avvocato Montella e per introdurre il prossimo ospite voglio leggere un pezzo del libro che è una frase di Sandro Pertini del 1983 si può considerare veramente libero un uomo che ha fame che è nella sua miseria che non ha un lavoro che è umiliato perché non sa come mantenere i propri figli ed educarli questo non è un uomo libero e quindi passo la parola all'assessore alle politiche sociali Simone Talai conviene che mi alzi non ci arrivi allora buonasera a tutti il perché della mia presenza me lo sto chiedendo però diciamo che qualche risposta me la sono data sia leggendo il libro sia ascoltando adesso il il nostro il nostro sindaco il nostro sindaco è sempre sindaco allora tutto quello che ho percepito dalla lettura di questo libro è è una risposta a tutte le volte che a tutte le situazioni in cui io mi trovo quando vengono le persone da me assessorato e parlano la frase di Sandro Pertini rispecchia circa 8000 persone qui a Olbia che vengono da me e mi dicono queste cose non mi dicono io non sono libero io sono non non ho la libertà di muovermi non ho la libertà di esprimere però mi dicono io ho bisogno di lavorare in primis ho bisogno di mangiare ho bisogno di una casa devo dare da mangiare ai ragazzi non so come fare per portarli a scuola mia moglie sta male insomma questa frase racchiude praticamente la mia quotidianità vi ho dato un dato circa 8000 persone sono state le persone che l'anno scorso sono in qualche maniera arrivate nel nostro assessorato spesso sono persone che hanno perso il lavoro spesso sono persone che non ne hanno mai trovato e spesso sono persone che non lo cercano più questo è l'aspetto più più terribile perché con le nostre diciamo linee di intervento quelle quelle regionali e quelle statali cerchiamo in qualche maniera di ridare a queste persone dignità che è quello che loro chiedono ma spesso o vengono fraintese le nostre intenzioni oppure c'è proprio una e ho letto che è così che succede praticamente il fatto di aver vissuto tante giornate sempre monotene sempre nello stesso con le stesse attività che non sono più attività ma sono dal divano al televisore se ce l'hanno non si cerca più quindi non si ha neanche più voglia di lavorare pensavo di fare un intervento parlando come io ho verificato persone veramente in una fase in cui quasi forse gente di pressione o quasi di stress perché da noi arrivano anche persone come ha letto forse Luca persone che sono state proprio anzi all'inizio scusami nella frase iniziale che ha letto Luisa a un certo punto dice in chiusura persone che sono state che non sono state volute a cui è stato negato il lavoro per problemi di salute da noi c'è anche uno spaccato di questo aspetto nel senso che le persone che hanno che sono curate dalla dalla dallo psichiatra comunque sono intervenuti i nostri sistemi sanitari spesso non riescono a trovare il lavoro anche se curate e diciamo stabilizzate possono donare tantissimo a questa società questa la l'attenzione verso queste persone che sono state escluse per questioni di salute la regione che è stata attenta ci ha dato uno strumento che è un progetto purtroppo per poche persone ancora si chiama includis ci stiamo stiamo per attivare i propri processi di inserimento di persone che sono state chiaramente tutte monitorate sentite con l'equip multidisciplinare sentite ascoltate verificata la possibilità di un inserimento lavorativo e quindi diciamo che gli strumenti che noi abbiamo sono pochi però ho capito che un pochino di speranza forse ce l'abbiamo nel senso della dell'attenzione quindi non lasciamoci soltanto con la parte diciamo della di questa indagine che ha negato dove si vede che il lavoro è negato in tante in tante in tante parti della in tante in tante fattispecie diciamo di di lavori e io vorrei che leggendo anche qualche frase di from e tu la riprendi dice che l'io è grande il nostro io è grande ed è forte potente quando è attivo per essere attivi non è necessario cioè non è sufficiente pensare bisogna pensare bene il percorso per pensare bene per non arrivare a momenti di grande confusione di tristezza di malinconia poi praticamente quello che voglio dire è che questi pensieri negativi devono essere supportati poi da pensieri positivi i lutti che vengono elaborati dal nostro io da quello che ho capito ma lo vede tutti i giorni le persone a cui sono mancati i propri cari le persone che hanno perso il lavoro le persone che non riescono a finire il mese le persone che hanno bambini malati che loro stesse sono malatte tutte queste persone che presentano una difficoltà di vivere il momento che stanno passando vedo che in alcune c'è un certo tipo di risorse di energia per poterlo superare e in altri no questo libro mi ha dato delle chiavi di lettura interessanti quindi quando io avrò un utente di quel tipo davanti a me saprò probabilmente cogliere quelle sfumature che spesso per mancanza di chiaramente di conoscenza spesso mi possono cioè mi sfuggono e sfuggiranno anche ai miei colleghi la parte diciamo che più mi ha colpito della lettura difficile devo dire la verità per me è difficile era più facile leggere l'isteogrammi che leggere il testo il testo scritto la lettura del libro che appunto mi è mi è stata difficile però devo dire la verità l'ho riletto e letto un paio di volte perché non capivo non capivo e ci sono delle cose che a parte che ho imparato tanto delle situazioni in cui mi sono ritrovata mi sono ritrovata nel senso di spettatore di certe di certe situazioni se avete poi la bontà di di leggerlo ci sono due storie vere due storie vere di situazioni abbastanza gravi che però io ho riscontrato esistono nel nostro quotidiano esistono nella casa a fianco nel nel nostro diciamo piccolo quartiere o grande quartiere e mi hanno colpito moltissimo poi purtroppo le soluzioni o meglio la non soluzione la non soluzione di questi problemi l'analisi che è stata fatta poi è scientifica e dirà meglio chiaramente mariafisia però mi rendo conto che tutti voi probabilmente avrete da raccontare situazioni che nel libro troverete e leggerete io volevo fare un altro tipo di intervento nel senso che mi ero preparata mi sono appuntata dei piccoli pensieri che racchiudono poi a conclusione delle pagine di studio alcuni aspetti mi fermerò soltanto in un in un aspetto in un aspetto che ha toccato leggermente Luca ma che per me è molto importante quando si perde il lavoro o non si trova o abbiamo i figli che non lo trovano nella famiglia si creano situazioni chiaramente di angoscia da quello che ho potuto vedere una delle figure più colpite è comunque la donna la donna vive anche la perdita del lavoro degli altri che siano mariti compagni o figli in una maniera proprio diversa anche perché noi ci siamo affacciate in questi ultimi decenni in un mondo costruito da uomini e per uomini con molta difficoltà lavoriamo con molta difficoltà ci inseriamo anche in situazioni tipicamente maschili come la politica e devo dire la verità che tutto questo comporta già potete dire stress comporta già stress il il fatto poi di di essere accompagnate da persone che perdono il lavoro o che il figlio che non riesce a trovare il lavoro per la donna è un pochino più stressante da quello che ho potuto capire poi mi correggerà ma se mi corregge e mi dice non è vero non è vero non è vero io vi posso dire che nel vissuto e in quello che ho potuto constatare in questi due anni di assessorato il 50% se non di più degli utenti sono donne sono donne che vengono anche al posto del marito sono donne che cercano lavoro che fanno la domanda del race per poter portare a casa quei 500 euro che vengono erogati e a fronte di questo cosa fanno chiedono di poter lavorare quelle 40 ore 36 ore che loro lavorano perché fanno un part time e sono le vedo sono impegnate sono contente ci donano tanto spesso questo non è accompagnato però da altrettanta attenzione dalla figura maschile mi chiedo come mai poi in situazioni di difficoltà economica che poi si riflettono anche sulle difficoltà di tipo sociale come di inserimento sociale di integrazione mi chiedo come mai questo poi magari ce lo spiegherai come mai situazioni di degrado così così gravi dove i soldi sono pochi abbiamo una percentuale altissima di alcolisti di persone che deviano in qualche maniera e di violenza di violenza in famiglia spesso di violenza nei confronti degli altri queste queste cose che confusamente forse vi ho raccontato perché sono sono rimasta confusa anch'io sono confusa dal lavoro che faccio perché io ho una una laurea in economia e commercio quindi di tipo pragmatico mi sono ritrovata in un servizio dove invece l'animo è la parte più importante quindi parlare di animo per me è molto complesso molto difficile però devo dire che qui forse mi aiuterà Maria Fisa con qualche seduta forse siamo già seduti forse la la chiave la chiave e la soluzione della mia confusione potrebbe essere avere qualche risposta in più il il personaggio in virgolette il libro che è il nostro in questo momento e quindi ringrazio a te Maria Fisa è colui che ci ha permesso questo libro ci ha permesso di parlare un pochino in maniera tranquilla anche delle nostre sensazioni perché a volte si leggono i libri ma non si ha l'opportunità di parlare con l'autore spesso no ma neanche tra noi leggiamo ma non ne discutiamo questa opportunità ecco mi ha mi ha colto piacevolmente cosa cosa aggiungere aggiungo che dalla da una base così c'è poco da da fare io spero che ci sia un secondo lavoro che si facciano degli approfondimenti anche specifici perché noi abbiamo la la voglia di noi io dico parlo per me alla mia età finiamo il problema saranno i nostri ragazzi no quindi ecco una chieda in fisica se siccome so che lavora con i ragazzi insomma se sarà possibile ecco dare dei messaggi ragazzi messaggi come ci siamo dette positive messaggi di speranza ma infatti la mia relazione scusa se ti interrompo è un po' scusa si si no no simonetta è un po' sulla sulle fragilità della Sardegna ma non solo della Sardegna ma collegata con l'Italia e con l'Europa e invece poi vedere il messaggio un positivo che possiamo dare ai ragazzi perché effettivamente quindi la risposta c'è nella breve mia relazione perfetto che considerando appunto il lavoro forse però un pochino troppo mi sentite quindi considerando il lavoro che rappresenta la condizione esistenziale dell'uomo e quindi ci induce anche una riflessione sul significato socio-economico e collettivo ci chiediamo anche cosa sarà il nostro futuro il futuro del nostro paese e come stava dicendo l'avvocato Montella un futuro legato a una repubblica che dovrebbe essere fondata sul lavoro la repubblica italiana democratica e invece il lavoro viene negato perché il tasso di disoccupazione è molto alto in particolare in Sardegna in Sardegna che è un paradiso vabbè io sono innamorata della Sardegna come molti sardi immagino un paradiso se pensiamo ai nostri territori se pensiamo non solo alle coste al mare ai reperti archeologici nonché ai paesini dell'interno che sono legati alle nostre tradizioni che poi ci riportano ma anche alle nostre origini quindi tutto questo ci porta all'identità dei sardi ma allo stesso tempo ci chiediamo oggi se è possibile cambiare la fragilità del sistema economico ecco ci chiediamo questo rispetto anche all'Europa che ci chiede non solo all'economia ma a tutta la società italiana un percorso coerente con gli altri paesi europei quindi al di là di questo vediamo che in questo scenario si inserisce anche il problema identitario che ha attraversato tutto il novecento e giunge fino a noi come un problema aperto ma vediamo che l'Europa a cui afferiamo sta attraversando un drammatico snodo nel senso che oltre alla spinta alla globalizzazione abbiamo anche le masse estereuropee che arrivano da tutte le parti e quindi c'è un discorso anche delle piccole grandi patrie che sollevano le loro voci per tutelare la propria specificità quindi non è una cosa che riguarda solo la Sardegna allora in questo scenario la professoressa che era una grande una grande conosci conosceva bene il pensiero di Gransci in quanto ha costruito anche a Cagliari l'istituto Gransci ci riporta il pensiero di Gransci che diceva che faceva in modo che ci fosse un modello unitario in cui la persona non si può scindere dalla società quindi non si può scindere dalla società allo stesso tempo rimane irrepetibile quindi è chiaro che dobbiamo tutelare la persona e la propria specificità questo lo dico perché effettivamente chi non lavora si trova abbandonato si trova ai margini della società quindi vengono meno le relazioni venendo meno le relazioni è chiaro che vengono meno anche quelle risorse di cui ha parlato l'avvocato Montella e poi alcune cose che ha detto anche Simonetta lo stesso Freud scriveva nessuna nessun'altra tecnica di condotta di vita legal singolo così strettamente alla realtà come lavoro poiché esso la inserisce sicuramente in una parte di esso ritornando al discorso della professoressa scrive appunto sulle persone che non lavorano come se fossero chi non lavora è uno spostato è un'accezione negativa che troviamo anche nel linguaggio comune cioè non è collocato nello spazio non è collocato nello spazio ma non è collocato neanche nel tempo perché i ritmi lavorativi lo ancorano al tempo e di conseguenza questo cosa porta si declina proprio in una mancanza anche di ruolo o una mancanza di libertà nonché anche di tipo esistenziale proprio perché si trovano ai margini quindi il discorso le criticità dei sardi così voglio rispondere poi meglio a fine relazione la criticità dei sardi è soprattutto quello di non saper lavorare in gruppo cioè non riuscire a creare dei gruppi di lavoro non riuscire a creare delle cooperative non riuscire a comunicare tra di loro invece è fondamentale la comunicazione e soprattutto saper lavorare in gruppo e questo purtroppo non succede solo alcune categorie succede alla maggior parte delle categorie se noi pensiamo che quindi non si riesce a lavorare in gruppo e ci rifacciamo alla psicologia del lavoro a Maio che negli anni 40 e 50 scrisse molto sul lavoro di gruppo sulla supervisione sulla motivazione al lavoro che è fondamentale perché molte volte uno lavora perché dice non trovo altro e quindi lavoro dove c'è lavoro però poi questo si ripercuote sulla produzione si ripercuote se un lavoro è a contatto con la gente con la qualità del servizio ecco dove dobbiamo lavorare e quindi sempre riportandoci ad a Freud vediamo che scrive dopo che l'uomo dell'origine ebbe scoperto che dipendeva dalle sue mani e la propria sorte sulla terra col lavoro non potè più essere indifferente se l'altro lavorasse con lui o contro di lui l'altro acquistò il valore di compagno di lavoro con cui era utile vivere insieme e questo è importante quindi vediamo che il lavoro e la mancanza del lavoro anche se è un'attività che si svolge sul palcoscenico della coscienza la psicanalisi lo influenza influenza questo evento stressante soprattutto di chi non è nel lavoro perché chi non è nel lavoro è angosciato ha un senso di vuoto esistenziale e spesso si sente sospeso nel nulla e questo si declina anche nella perdita della libertà quindi dobbiamo considerare la marginalità di chi non ha il lavoro vedere il suo disagio psicologico che si può può diventare malattia e quindi è necessaria un'analisi sia generazionale sia dal punto di vista anche quanto una persona resta fuori dal lavoro e quindi più resta fuori è più difficile essere rinserita citando anche Durkheim che già nel 1887 scrisse sulla anomia e sulle crisi economiche quanto la crisi economica nel tempo poi portava un aumento del suicidio quindi c'è da dire che queste persone quando non si trovano non trovano una soluzione si trovano come una situazione di tunnel e quindi questo può portare al suicidio purtroppo questo è successo spesso anche in Sardegna e quindi vediamo che è importante focalizzare l'attenzione soprattutto sulle emozioni sul coinvolgimento emotivo considerando che la vita comunque è un continuo di emozioni emozioni che sono primarie e le troviamo in tutti i popoli per esempio la tristezza anche la gioia soprattutto la paura la rabbia l'impulsività e chi si trova senza lavoro utilizza come meccanismo di difesa prima la negazione come per dire ma tanto lo ritrovo il lavoro poi la rabbia l'impulsività verso la società ma soprattutto emozioni secondarie che possono essere la vergogna e la colpa che hanno anche una caratteristica particolare in Sardegna per quanto riguarda la colpa che si associa in genere ai traumi come diceva la Klein i traumi possono essere riparati la colpa può essere riparata come emozione quindi dipende dalle capacità anche delle persone di adattarsi a situazioni nuove però mentre la colpa può essere riparata la vergogna che molte volte accompagna la colpa soprattutto nei Sardi viene vissuto come uno smacco uno scacco scusate sociale un insuccesso che non riesce ad elaborare e poi correlato soprattutto all'occhio critico degli altri quindi la vergogna per i Sardi che è un'emozione molto profonda tanto che Bacchisio Bandino che oggi non è qui con noi aveva scritto anni fa sulla maschera della vergogna è meglio essere seppellitri tre palmi sotto terra che provare vergogna questa emozione così sgradevole questa emozione che appunto porta i Sardi quasi a volersi dissolvere e quindi questi sono tutti gli aspetti critici io li ho portati tutti poi voglio sentire voi però c'è da dire che nei Sardi intanto sono molto creativi e questo è importante e poi soprattutto sono testardi c'è una certa caparbietà che gli porta anche a vedere e affrontare con dignità la possibilità di una svolta e quindi è importante intanto rispondendo anche a Simonetta passare nelle scuole oggi mi dispiace che non ci siano gli studenti il passaggio nelle scuole ho visto che ci sono progetti anche alternanza scuola e lavoro oppure portano addirittura il quotidiano il progetto Erasmus eccetera è importante educare gli studenti alla motivazione motivazione intanto a scuola motivazione anche al lavoro perché la Sardegna è considerata la cenerentola dell'Europa in quanto sia come abbandoni scolastici superano il 20% sia persone che sono laureate sono circa il 23% i giovani dai 15 ai 29 anni che non si formano che non cercano lavoro che stanno in casa sono il 24% quindi sono dati veramente drammatici questi confermati anche dalla ricerca questi giovani che praticamente vivono in famiglia come se la famiglia fosse una sorta di ammortizzatore sociale è chiaro che poi ha ripercussioni non solo sulle emozioni e sulla responsabilità quindi quali sono i punti di forza che dobbiamo attivare ed educare i punti di forza sono rappresentati intanto da una volontà politica qui non c'è neanche un politico oggi quindi possiamo no c'è c'è l'avvocato Montella vabbè vabbè politici tenevo intendevo ecco politici politici che contano vuoi dire sono ironica Luca lo sa mi conosce benissimo Simonetta un po' meno però dico non c'è una classe politica oppure dei politici che dovrebbero affrontare questo problema allora affrontare innanzitutto il sistema acro pastorale abbiamo visto un mese fa cosa tremenda che non abbiamo mai visto e cioè cosa si è risolto non lo sappiamo allora le nostre origini vengono dal sistema agro pastorale perché non fare in modo utilizzare dei progetti non arrivare sempre all'ultimo momento quando le cose diventano tragiche le persone sono alla fame come ha detto Simonetta poi il turismo il turismo è un'altra risorsa il turismo non solo d'estate ma il turismo tutto l'anno abbiamo detto che abbiamo dei reperti archeologici che ci invidiano da tutte le parti quindi il turismo chiaramente può essere valorizzato se vengono valorizzati i trasporti quindi i trasporti i trasporti intendo ferrovie i trasporti migliorare le strade i ponti i trasporti maritimi i trasporti anche aerei è chiaro che se non funzionano i trasporti non può funzionare tutto il resto ecco io chiedo questo lo chiedeva la professoressa Arruda tanti anni fa quando ha iniziato a scrivere il libro e io in aggiunta che vedo che le cose peggiorano di giorno in giorno rispetto a dieci anni fa a dodici anni fa che aveva scritto quegli appunti appunto che troviamo nella prima parte del libro io vedo che le cose sono peggiorate quindi ci vorrebbe un progetto di lavoro straordinario che passa dalle scuole e che poi interagisce quindi non solo dire cosa fare i politici fanno questo scusami Luca mi viene da ridere però bisogna anche agire cioè e poi molte persone poi non possono agire anche professionisti non possono lavorare perché poi i progetti che si fanno non rispecchiano la trasparenza la preparazione quindi cioè queste cose sono importanti se non partiamo da questo non possiamo andare da nessuna parte quindi i giovani sono la nostra risorsa quindi bisogna lavorare sui giovani e quindi non so se ho risposto a tutto Simonetta rispetto al fatto che comunque io penso da sarda che i giovani possono avere speranze possono avere speranze però se si fa una determinata formazione se anche i politici investono sui giovani ma non solo sui giovani ma sul resto io ho citato non sono una politica io sono cioè sono una persona che studia scrive perché studio continuamente però sono innamorata della Sardegna e mi dispiace che tanti giovani poi se ne vanno e non possono tornare perché non c'è lavoro oppure persone che si sentono per anni per dieci anni sempre sul filo del rasoio non sanno se domani devono lavorare in Sardegna o devono andare da un'altra parte e questo purtroppo io lo sento io sono a Olbia da dodici anni e lo sento continuamente quindi non so Simonetta ecco interveni se ho risposto poi io siamo già nel dibattito quindi bravissimi bravissimi anche e bravissimi quelli che ci ascoltano perché si è riusciti a entrare a entrare proprio nella discussione che è la parte sempre più piacevole due spunti di riflessione i nostri giovani oggi hanno davanti ma questo lo è per ogni epoca un modello sociale dove tutti cercano di seguire il modello dei compagni che stanno meglio ma non sempre siano le possibilità per arrivare a quello cioè parlare della Sardegna che dici dal mondo agropastorale al turismo eccetera bisogna capire che forse bisogna lo sforzo sociale proprio Simonetta è lì che noi abbiamo le più grandi difficoltà le più grandi difficoltà se parliamo della parte politica e riuscire a trasmettere sui giovani la convinzione che ci sono tanti modelli da prendere come riferimento non uno solo e oggi guardate i ragazzi i ragazzi vengono a uniformarsi perché se ha il cellulare iPhone di ultima generazione il compagno di scuola lo vuole anche quell'altro quello che non non se lo può permettere e quindi le famiglie sono costrette per non differenziarli a munirli di una cosa che anche quel contesto non può sopportare come costo noi dovremmo forse fare uno sforzo maggiore per cercare di cambiare il modello della vita di tutti i giorni per rendere dignitoso qualsiasi tipo di lavoro la fuga delle campagne la fuga delle campagne a parte la fatica e torniamo al concetto di lavoro che cosa è è che oggi c'è il miraggio il turismo in questo ha aiutato molto nella deviazione in negativo c'è il miraggio del facile guadagno col minore sforzo nel minor tempo lavoro meglio guardate che questa è una deriva sociale che in Sardegna noi abbiamo lavoro meglio tre mesi quattro mesi il più possibile eccetera per fare poco d'inverno cioè la stabilizzazione del lavoro per stare impiegato tutto l'anno e con poco nei giovani soprattutto nelle parti costiere non c'è come convenzione il lavoro continuo perché il meglio d'inverno non fai niente quindi noi dobbiamo partire a cercare di invertire questo modo poi d'accordo se trasporti eccetera se il turismo fosse tutto l'anno ma se i ragazzi li hai perduti non lavoreranno tutto l'anno non ne hanno più voglia voglio darti un contributo intanto voglio dare un piccolo contributo dal punto di vista politico nei mezzi a disposizione perché ci sono i paradossi i politici qui dovreste sottoporre i test psichiatrici noi siamo esenti perché siamo della comunità sarda i politici quelli che fanno le norme lo faccio gratuitamente vorrei esserci quel giorno i risultati io sono l'unica che mi conosce le persone che è bello questo pensate che per darvi un paio di esempi concreti noi ci troviamo il paradossi perché i politici cui io mi riferisco in termini negativi sono quelli che fanno le norme quelli che fanno le leggi e credetemi sto prendendo la deviazione di mia madre che da grande che era una donna sempre precisissima puntuale nel non dire neanche una parola fuori posto un giorno in età ben avanzata 75 anni e verso gli 80 un frasario un po' diverso mamma ma senti sono arrivata all'età in cui posso dire quello che voglio quindi e io mi è piaciuta questa cosa cominciò ad avvicinarmi alla possibilità di dire quello che voglio e cioè con i mezzi che abbiamo a disposizione ci sono delle regole che sono davvero assurde io vi faccio un paio di esempi concreti noi oggi parlo di la madalena abbiamo i soldi ma non possiamo assumere è il colmo io posso assumere ma tu con una regola non me li fai spiegare ma dimmi perché se i soldi li ho e sono i miei sono del comune posso assumere dieci vigili perché non me li fai perché esistono queste regole dove tutti ci vogliono uniformare e alla fine andando avanti di questo passo non dando l'elasticità ai comuni che hanno il polso della situazione sul posto tutto si ferma in virtù di regole che possono andare bene per Milano o per Roma per Padova o per Palermo ma non per i comuni che pian piano diventano sempre più piccoli o che si spopolano quindi a volte gli enti ce l'hanno e te li devi è peggio che li dovresti spendere io ho una norma che dice che li posso spendere in polizia locale ma sono andato a Roma a discutere ma cosa devo fare dobbiamo fare 50 macchine senza i vigili in polizia locale 100.000 palette per fermare la gente ma non ho chi li agita questi sono la risposta però è tecnica no è tecnica ma spiegarlo alla gente però che tu volendo potresti ma non puoi perché poi tecnica ma molto più grande perché rientra un altro discorso eccetera l'altro piccolo contributo che vorrei dare è questo sul modello che ha estremamente ragione From una volta si diceva dimmi con chi vai e ti dirò chi sei oggi ti si dice dimmi cosa fai e ti dirò chi sei non è che ti si dice il concetto è questo perché quando ti presenta una persona non è che dice a piacere Luca Montella non te lo dico ma certamente dopo un po' stanno cercare di capire cosa fa questo cosa fa ma lo facciamo un po' tutti cosa fa quello perché siamo tutti ormai deviati a cercare di capire che la persona non è più quel che è all'interno ma è quel che svolge per sapere se sei davanti a una persona e che persona è perché ti può tornare utile perché il tuo giudizio è deviato da un modello sociale che oggi ci porta più ad essere attratti dalla forma che dalla sostanza piuttosto che dalla sostanza concludo su quel che è detto sulla vergogna dei sardi eccetera eccetera che fenomeno che si sta molto inquinando più lontani dal centro più verso le coste perché non è che più vergogna molti non sono tanta è la dispersione tanta è la disperazione che questi sentimenti sono diventati molto confusi ma è detto una cosa molto saggia la colpa può essere riparata e qui vi do un dato concreto di natura professionale che io sono in grado di certificarvi la connessione fra la colpa riparabile e il lavoro voi dovete pensare che si è cercato ora di portarla nel processo anche per gli adulti nei processi penali per gli adulti ma esiste una norma ma esiste da tantissimi anni una norma civilissima dove l'Italia è molto avanti nel processo contro nel processo dire contro poi vi può portare a comprendere male quello che voglio dire per i minorenni per i ragazzi che vengono coinvolti in un processo penale che spesso sono vittima anche loro di quel che accade nella società perché si portano a commettere un reato perché la società sta andando in quella direzione anche non volendo c'è uno strumento che è quello della messa alla prova che è di origine anglosassame la probation che da noi funziona benissimo perché ha un indice di successo superiore all'80% cioè il ragazzo che ha deviato il ragazzo che ha deviato è recuperabile è davvero recuperabile pensate che il maggior indice di successo che si ha e qui si potrebbe aprire l'altra discussione è perché quando lo si mette alla prova il ragazzo gli si costruisce addosso un progetto dove più che metterlo a studiare perché spesso non sono più neanche cioè sono scolarizzabili anche come età lo si mette e lo si impiega lo si impiega e lo si avvia a un mestiere a un lavoro questo ragazzo recupera molto più velocemente la possibilità di riparare la sua colpa perché è una colpa perché ha commesso un reato e credetemi non spaventatevi ha funzionato anche nei casi di omicidio commesso dal minorenne perché l'obiettivo è recuperare il minore e reinserirlo perché in realtà tutte le pene dovrebbero mirare a quello quando tu vedi che questi ragazzi vengono portati nel circuito non lavorativo in senso negativo quel circuito dove tu sei impiegato cominci a capire che se sei impiegato hai guadagnato i tuoi soldini che questo ti gratifica ma ti rende autonomo non così autonomo perché devi ritornare a lavorare eccetera tutte queste persone tu le vai a recuperare partendo dalla colpa siamo passati al lavoro e dal lavoro siamo passati alla parte veramente psicologico e psichiatrica perché questo oggetto recupera l'autostima esce dall'universo della colpa dalla depressione e da tutti gli altri stessi non è salvo perché deve continuare su quella strada e all'85 80-85% arriva salvo ci sono fior di capitani di industria quadrati che in gioventù hanno avuto la disavventura ma è questa la prova provata è il punto di partenza che col lavoro e vedete come portato il lavoro in maniera educativa quindi il lavoro è anche educazione oggi si parla di educazione al lavoro ma il lavoro è anche educazione in realtà ti porta a vivere una vita come con delle regole che tu riesci ad osservare bene l'agricoltore che si fa un mazzo così è stanco però è soddisfatto è stanco ma è soddisfatto perché ha visto il frutto di quello che lui ha fatto anche l'impiegato che ha lavorato bene è soddisfatto poi se lavori male il discorso cambia infine un complimento perché col libro che non ci ha dato le soluzioni ci ha stimolato a discutere ci ha stimolato a discutere che questo oggigiorno è una cosa davvero molto importante bisogna scrivere adesso dico una cosa che fa ridere bisogna scrivere a due mani con i politici a questo punto soprattutto quelli più potenti adesso è appunto infatti non vi ho preso in considerazione se qualcuno volesse fare una domanda all'autrice io sono pronta col microfono magari vi leggo un passaggio che può anche riassumere di Primo Levi se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare l'amare il proprio lavoro che purtroppo è il privilegio di pochi costituisce la migliore approssimazione alla felicità sulla terra ma questa è una verità che non molti conoscono se qualcuno volesse fare delle domande arrivo vi porto il microfono grazie buonasera ma la mia più che una domanda è una riflessione una serie di riflessioni io il libro non l'ho letto quindi non so esattamente i contenuti però siccome si parla di lavoro quindi immagino cosa ci possa essere scritto poi ho seguito con attenzione la presentazione che ha fatto l'avvocato e poi ho anche seguito qualche mi ha dato qualche spunto dopo queste ultime considerazioni che ha fatto soprattutto quando si parlava appunto dei politici che purtroppo hanno a mio avviso generato una situazione che è quella che quindi quando l'avvocato diceva io vorrei che sottoporre certi politici a una visita psichiatrica perché soltanto quando si fanno certe norme si ottengono certi risultati e qui ci sarebbe veramente da da cantarne a tutti un po' o meglio a tutti quelli che ci hanno governato sino ad oggi lasciamo fuori il governo che c'è in questo momento perché ha lavorato poco però tutti quelli che ci hanno governato sino ad oggi io li metterei all'indice perché veramente andare a fare patti di stabilità come hanno fatto prima si diceva ci sono i soldi ma non li possiamo spendere è chiaro che il lavoro si genera quando i soldi si possono spendere quindi andare a fare patti di stabilità e questo l'abbiamo avuto anche a Ulbia purtroppo ahimè con la giunta passata quando c'è stata l'alluvione il sindaco Giovannelli si lamentava che i soldi c'erano per fare tutte le opere le cose prendere tutte le misure però non li poteva spendere infatti questa è anche la sua linea di difesa in questo momento al processo che c'è per dirla quindi dico certe cose non sarebbero dovute succedere i patti di stabilità io ho una sensazione la faccio breve non vi voglio tediare che richiamandomi alla costituzione che dice chiaramente che l'Italia è un paese fondato sul lavoro io invece ho la percezione che abbiano stravolto questo concetto e l'abbiano fatto diventare un paese fondato sul pareggio di bilancio la ringrazio ma vedo che si sta animando mi stanno alzando le mani sul pareggio di bilancio non so rispondere rispondo io io il libro non lo ho letto però voglio fare ugualmente una riflessione per accendere la discussione non vorrei essere e andare controcorrente però a me mi pare che questa storia che il lavoro il lavoro non si crea per decreto legge invece mi pare che l'orientamento attuale sia un attimino questo nel paese cioè il lavoro si crea perché qualcuno decide di creare non funziona così nell'economia non funziona così quindi Simonetta ha fatto riferimento ai suoi studi economici che necessariamente si devono sposare con gli studi sociali perché continuando di questo passo nel voler creare lavoro per imposizione noi andiamo a sbattere contro un muro perché le politiche sociali hanno un senso hanno un senso se sono rivolte alle persone che veramente hanno bisogno se noi invece creiamo un sistema nel quale il reddito viene garantito a prescindere dalla produzione noi creiamo un esercito di professionisti che andranno a pietire lavoro a chiedere sussistenza e attenzione e quando e qui torniamo al libro perché non voglio fare nessuna disamina economica altrimenti deviamo se io percepisco un quantitativo economico senza esercitare un lavoro quello è veramente oggetto di frustrazione perché ottenere qualcosa senza dare niente in cambio alla società crea un percorso terrificante qui mi potrà dare conforto non l'ho letto ancora quindi crea evidentemente una dipendenza terribile una dipendenza terribile e una difficoltà proprio sociale che creerà sicuramente delle problematiche enormi posso posso dire no no parte la lettura del libro voglio voglio dire due cose intanto il Luca ha accennato il fatto che spesso si hanno i fondi e non si può assumere ed è vero purtroppo siamo legati a a questi avanzi di amministrazione che si sono creati nel tempo questi avanzi servono e noi siamo davvero quelli che manteniamo lo Stato servono per colmare gli spareggi loro loro dico del di su soprattutto dei ministeri e quindi a noi non ci permettono di di spenderli però aggiungo una cosa a quello che hai detto se mi permetti Gavino noi abbiamo fatto dei conteggi chiaramente stava parlando del reddito di cittadinanza qui che che praticamente è i motivi di tutte le le informative che che girano per gli studi del di varie televisioni e due aspetti voglio dirvi intanto questa questa possibilità che è data alle persone che hanno un reddito molto basso lavoro nero non lavoro nero questi sono mettiamo che siamo in un'isola felice a redditi molto bassi è una possibilità che permette ti faccio un esempio di far girare circa 14 milioni di euro qui in Gallura dai conteggi che sono stati fatti qui in Gallura gireranno 14 15 milioni di euro con il reddito di cittadinanza io non posso dire di essere chiaramente favorevole a un'iniziativa che non accompagna questo intervento a politiche effettivamente di creazione del lavoro strutturali quindi penso agli investimenti eccetera però in questo momento io mi rivolgo agli 8 mila circa persone che ci sono qua che hanno dietro dico a Olvia che hanno dietro una famiglia queste 780 euro che sono 500 più 280 siano un contratto da affitto per essere chiari permetteranno a queste persone un pochino di andare avanti considera che tra l'altro non è incompatibile con lavori stagionali chiaramente non devono superare una determinata soglia ma quello che mi sono chiesta quando abbiamo fatto i conti questi 14 milioni Luca ci fanno comoda noi della gallora ok permettono di mangiare di spendere un pochino muovono leggermente l'economia la muovono è chiaro che non è sufficiente è chiaro che non è bravo che non è risolutivo sono molto lunghi non si sono mai fatte non le possiamo pretendere in un anno di governo assolutamente e ci metteva a criticare una misura che sul primo passo come tutte le cose in tutte le passeggiate i chilometri dei maratoni iniziano con un passo e questo può essere un inizio certo non si sono mai fatte vero i quelli che ora li stanno criticando non hanno mai fatto niente è verissimo la ricetta no lasciate perdere chi paga Paolo questo è interessante ma si parlava della parte della funzione sociale del lavoro cioè quanto questo può contribuire è corretto un corretto uno corretto due corretto tre aggiungerei per completare che da economia 14 milioni sono di euro ho detto giusta la cifra 14 milioni che è certamente muove e quindi attiva apre poi altre riflessioni che è meglio che ci sia piuttosto che non ci sia numero uno sono d'accordo due nella famiglia davvero disagiata 8 mila persone aspetta davvero disagiata il ragazzino che ha come modello il genitore che non lavora reddito di cittadinanza o no non ha sarà una disgrazia sarà una disgrazia una cosa che non fecero che almeno a me sfugge probabilmente io speravo che fosse accompagnata da una possibilità perché il contributo è un discorso c'è molta gente che vuole avere il contributo ma anche lavorare no che potesse essere l'incentivo per dire a me sfuggita non c'è un incentivo per esempio per dire alle pubbliche amministrazioni prendi daglieli daglieli perché perché c'è quello che magari vuol mettere a posto il giardino eccetera eccetera invece non te lo fanno fare cioè se il sindaco va a mettere a posto sto sbagliando sì perché c'è un obbligo lavorativo di 8 ore alla settimana e vabbè li metti a fare quello li metti a fare quello sono 16 ore sono 16 ore 16 ore su lavori sociali o su lavori sociali sono 16 ore nei comuni bene 16 ore e l'ultima non l'avevo vista sì sì è una benissimo sono 16 ore alla settimana nei comuni di queste 16 ore inizialmente si volevano fare 8 ore di formazione e quindi non era pensabile che in 16 ore in 8 ore perché inizialmente erano 8 ore si potesse fare in questo tipo di intervento sono diventate 16 ore obbligatoriamente nei comuni quindi tutte le settimane tutte le settimane ci sono degli incentivi assolutamente degli sgravi degli sgravi fiscali degli sgravi infatti che c'è un'altra domanda è due ma hai fatto bene no no ma hai fatto bene mi è utile scusate facciamo tutte e due le domande se ti notificano chi ha preso il consiglio buonasera buonasera scusa chiarisco un'altra cosa lo notificano per forza perché noi dobbiamo per forza buonasera io vorrei spostare un attimo il punto dell'attenzione perché io sono un'imprenditrice e già diciamo un paio di cose che sono state dette qua io potrei confuttarle in cinque minuti perché perché ho avuto e dico solo questo non voglio contrarre su questo tema perché secondo me il tema della sera era un altro se un attimo cambiato obiettivo perché io faccio un esempio molto semplice io ho avuto un dipendente che era una categoria protetta tenuto ovviamente con tutti i crisi ma eccetera eccetera questo ha fatto di tutto per farsi licenziare ed è palese che l'ha fatto perché in altri termini sarebbe una truffa in realtà è perché aspirava al reddito cittadinanza e qui chiudo con lo stipendio il part time assicurato tutelato in tutto e per tutto in tutto e per tutto vedrai che glielo danno vedrai che glielo danno comunque chiudo subito perché il centro della mi scusi lei ha parlato prima posso finire mi scusi mentre invece quello che io volevo chiedere alla dottoressa vorrei chiedere alla dottoressa se l'avvocato la libera cortesemente poi con l'avvocato dobbiamo parlare di altro tipo delle aree di sosta alla maddalena se magari meglio aumenta lo scaricomercio mi fa un favore punto poi si deve aumentare le aree di scaricomerci perché sennò dobbiamo fare la fosta per lo scaricomercio no no deve aumentare gli spazi perché non si sa più dove lasciare il camion per scaricare la merce sulla maddalena però questo è un interesse privato non mi aspetto che lei entri nell'interesse privato in un altro pubblico si poi glielo dico no a parte gli scherzi ovviamente era una battuta volevo chiedere questo alla dottoressa sappiamo tutti che nella piramide dei bisogni i primi sono appunto i bisogni primari alla sussistenza eccetera il lavoro è un bene è un bisogno mi scusi un attimo superiore ovviamente oltre questo che già è la soddisfazione un bisogno quando una persona io mi sono trovata qualche sera fa a un workshop sulla gestione del tempo gestito da una psicologa del lavoro è stato molto interessante perché alla domanda perché siete qua cosa vi aspettate da questo corso io ho risposto vorrei che che io non fossi identificata col mio lavoro cioè è un bisogno ancora superiore cioè l'autorealizzazione l'autogratificazione e la gratificazione soprattutto nel fare altro cioè nella mia personale categoria di desideri ci sarebbe fare anche un altro lavoro però ovviamente ho 24 ore a disposizione devo anche dormire devo anche ricrearmi no? tra virgolette volevo capire nel libro che non ho letto me ne scuso ma ovviamente provvederò certo c'è tutto il tempo è considerato il tema o comunque il problema di chi invece ha un lavoro e non è soddisfatto in questo bisogno e la crisi interviene perché si identifica troppo con questo lavoro e vorrebbe fare altro come viene visto il libro tratta non solo di disoccupati casi integrati ma proprio c'è una categoria con cui fanno il controllo e quindi i test sono somministrati a tutti quindi è un discorso che riguarda al di là della psicologia del lavoro che è la prima parte del libro quindi attraversa cioè attraversa il fatto che una persona quanto si identifica nel lavoro e quanto è importante e quindi va per tutti non perché è disoccupato e la professoressa scrive non glielo voglio dire adesso così se lo legge scrive in modo originale quanto il lavoro quanto investiamo nel lavoro e quindi questo di investire nel lavoro quanto è importante per ciascuno di noi è legata alla nostra personalità ecco che lì interviene la ricerca con i dati che emergono per esempio da alcuni test come può essere il Minnesota che è un test che è praticamente il più diffuso in tutto il mondo e che analizza la personalità quindi non solo disoccupati casi integrati ma anche delle persone che lavorano e quindi se lei investe vorrebbe investire anche 24 ore sul lavoro significa che la sua personalità profondamente rispetto al tempo libero predilige il lavoro ma non tutti e viceversa però ci sono persone che magari si dedicano più al lavoro e non sanno usare neanche il tempo libero perché a me capita c'è anche nella mia professione poi questo di somministrare test io li ho sempre somministrati da quando ero studentessa studentessa significa dopo che sono diventato medico e poi ho passato dieci anni in clinica psichiatrica quindi soprattutto questo Minnesota io lo somministravo ai studenti di psicologia di medicina a tante persone al di là di questa ricerca ne ho somministrati veramente tanti quindi analizzandoli poi uno vede quali sono i tratti di personalità anche per esempio le faccio l'esempio tra studenti di medicina e psicologia e quindi vedere anche qual è la motivazione quindi dipende da come una persona è strutturata lei è matura a una certa età per i ragazzi è diverso i ragazzi adesso rifacendomi anche il discorso dell'avvocato Montella cioè anche un ragazzo un minore che effettivamente ha fatto delle cose che vanno oltre e quindi si può recuperare perché è molto giovane allora sulla struttura di personalità si può recuperare di più rispetto a una persona che ha 40-50 anni perché la personalità si sta strutturando soprattutto in adolescenza quindi certe devianze si possono modificare che siano devianze legate all'uso di sostanze e poi anche alla criminalità perché poi vanno di pari passo e voi lo sapete meglio di me si possono recuperare facendo lavorandoci ecco quindi facendo un percorso il discorso io ho parlato della criticità dei sardi è riuscire a lavorare insieme e sfruttare poi le cose che abbiamo a disposizione perché poi alla fine ne abbiamo delle cose a disposizione però il libro mette in evidenza anche che dare un sussidio e non lavorare una persona sta peggio glielo dico in modo molto scientifico nel senso che sta male ha necessità e parla proprio della dignità della persona che recupera rinserendosi sul lavoro quindi non con un sussidio perché se noi vogliamo adesso non parliamo di reddito di cittadinanza ma anche la disoccupazione la cassa integrazione che durava anche dieci anni è sempre un sussidio che comunque metteva in conflitto quella persona quindi viene analizzato da questi punti di vista quello più completo è quello che gli ho appena citato non so se sono stata esauriente nella domanda c'è un'altra domanda? Buonasera a tutti più che una domanda la mia vuole essere una considerazione spero possa essere un supporto è un argomento magari di riflessione da parte di tutti sono vent'anni che mi occupo di ricerca e selezione del personale quindi ho ascoltato nel mio lavoro tantissime persone raccontarmi delle loro vite del loro lavoro delle loro esperienze e spesso mi trovo tra l'imprenditore e il lavoratore quindi ascolto sia le esigenze dell'imprenditore che non riesce ad individuare la persona giusta non riesce a trovare persone che abbiano veramente la voglia di lavorare e i ragazzi o i non ragazzi che spesso non riescono a inserirsi a avere la giusta collocazione nel mercato del lavoro ho sentito due parole che mi sono piaciute tanto stasera motivazione e responsabilità secondo me bisognerebbe investire tantissimo su questi due aspetti perché spesso sono la mancanza di motivazione e la mancanza del senso di responsabilità che determinano quella perdita di opportunità nel mondo del lavoro e altra cosa che ho sentito dire che condivido è che bisognerebbe tanto assumersi proprio la responsabilità più che aspettare dal di fuori che arrivi l'opportunità di lavoro questo non credo per esperienza proprio vent'anni sono tanti se si considera veramente un ascolto attivo di tantissime persone il mio lavoro è solo ascoltare ascoltare e cercare di capire però nell'ascolto le vite di tante persone le vite lavorative ti passano accanto ti passano dentro non ti lasciano indifferenti vedo anche tante persone come diceva il sindaco che sono deviate stagionalità lavoro tre mesi lavoro quattro mesi preferisco lavorare quattro mesi piuttosto che lavorare tutto l'anno questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti è una realtà che tocca in particolar modo la Sardegna ora i miei anni li ho spesi tanto in una multinazionale a Roma ma gli ultimi quattro qua quindi sono quattro anni che ascolto persone sarde parlare degli loro lavori delle loro motivazioni è un'altra cosa sulla quale credo fortemente è quello che diceva Levi che se riuscissimo veramente a trovare il lavoro che ci rappresenta tanti problemi non ci sarebbero lo penso come una missione cerco di applicarlo nel mio lavoro credo che se ci insegnassero fin da piccoli ad ascoltarci e a cercare di scoprire ciò che veramente ci fa star bene professionalmente tanti di questi problemi sarebbero veramente decadrebbero perché si farebbe il lavoro avere la motivazione cioè fare il lavoro giusto significa portarsi dentro tanta motivazione motivazione che si trasmette a un datore di lavoro non si farebbe fatica a fare quel lavoro c'è chi si trova bene a lavorare in campagna e lo farebbe dieci ore al giorno con estrema dignità adoro la dignità di chi lavora qualsiasi lavoro esso sia se lo si fa con la giusta motivazione chi messo davanti a un computer riesce a reggere dieci ore un'altra persona soffocherebbe spesso però siamo deviati anche da questo dalle interferenze ciò che vogliono mamma e papà ciò che la società ci impone quindi ci sono tante tante sovrastrutture che ci impediscono di leggerci dentro quindi credo che un lavoro fatto a monte nella scuola dagli assistenti sociali ora non so come si potrebbe effettivamente intervenire ma guidando le persone nella conoscenza di se stessi nella scelta di ciò che gli appartiene di più e mirare a quello darsi degli obiettivi già aiuterebbe veramente veramente tanto e ho sentito lai parlare di un'altra cosa importante che vivo tutti i giorni il fatto che le persone qualche volta allora io ho il privilegio di lavorare con chi il lavoro spesso ce l'ha e vuole cambiarlo quindi è molto più facile lei si confronta tutti i giorni con persone che il lavoro non ce l'hanno e la sensibilità è sicuramente diversa e l'approccio emotivo cioè l'impatto emotivo è sicuramente diverso però mi è capitato di seguire un progetto regionale di riqualificazione di persone che avevano perso il lavoro ed è stata veramente dura e ho notato come si creano e anche io ho timore qua a usare le parole false credenze cioè ho perso il lavoro quindi è difficile quindi il lavoro non c'è quindi mi pongo in questo modo e facendo un colloquio di lavoro per esempio lo affronto con delle false credenze con delle mancanza di motivazione ma dal tono della voce alla posizione fisica alla postura a tutto che non trasmettono quella motivazione e quell'impatto che farebbe scegliere me come candidato ideale per quell'azienda perché tanto so che non mi sceglieranno mai quindi la falsa credenza e la profezia che è stata vera genera poi di fatto una non scelta da parte del datore di lavoro quindi sono veramente tante tante le criticità però motivazione e responsabilità io credo che bisognerebbe puntare tanto su questi due temi sono d'accordo con lei sì queste sono le cose principali e sono d'accordo con lei infatti ho parlato di psicologia del lavoro proprio perché la motivazione e la responsabilità sono gli elementi più importanti dovremmo educare i giovani a questo anche gli altri ma in particolare i giovani che sono il futuro e ci si può lavorare che è il nostro futuro sì no ecco c'è ancora allora io farei vabbè facciamo un ultimo intervento e poi c'è un ospite anche che abbiamo piacere c'è Nicole che deve cantare buongiorno riprendiamo anzi buonasera allora io fino a poco tempo fa lavoravo non era un lavoro che era particolarmente che mi piaceva particolarmente però me lo sono fatto piacere questo lavoro per il semplice motivo che alla fine del mese arrivava quel corrispettivo chiamato stipendio che mi permette di sperare nel futuro e di progettare soprattutto e questo significava una parola soltanto libertà e questo vuol dire libertà poter progettare per il futuro significa libertà poi di punto in bianco alcune persone hanno deciso che questo lavoro doveva finire e mi sono ritrovato all'età di 46 anni senza un lavoro magari qualcuno sperava che mi venisse anche la depressione ma a me la depressione non è venuta e ci sono succeduti queste cose non è venuta la depressione voglio dire perché mi rendo conto quanto sia difficile adesso cioè trovare un lavoro e trovarlo in Sardegna è questo il problema cioè non è solo trovare il lavoro ma è trovarlo da noi perché ci sono secondo me questa è una mia idea poi posso magari sto dicendo una scimpiaggine però il nostro è un problema di massa critica cioè cosa voglio dire questo non è solo una questione di buone leggi insomma in tanti anni da quando siamo regione autonoma qualche buona legge sarà stata pur fatta ecco il problema è che siamo pochi che abbiamo difficoltà a consorziarci a creare a creare possibilità di lavoro ed questo mi crea la paura che ha 46 anni io non possa rientrare in nessun circolo ma non perché ho 46 anni ma perché non ci sono i circoli di lavoro è questo il problema grosso cioè quindi la domanda che mi pongo è cosa ne sarà del mio futuro e ci saranno possibilità cioè una minima possibilità di lavoro tutto qua grazie forse forse l'assessore voleva rispondere no volevo soltanto una riflessione mentre parlava è paradossale il signore magari ha esperienza un curriculum importante e non trova lavoro i ragazzi vengono da me ma tanti tanti ragazzi questo è un aspetto dei servizi sociali diverso da quello che vi raccontavo ma vengono tanti ragazzi a portarmi il curriculum e mi dicono qualcuno mi chiama ancora professore e sta professore ma ascolti io non riesco mi sono laureata ho il master ho fatto due anni all'estero ho fatto l'erasmus eccetera non mi vogliono non riesco a trovare lavoro perché non ho esperienza chiaramente sto parlando di campo sociale vengono da me chi è laureato chi è educatore chi è laureato assistente sociale eccetera e mi mettono sotto l'agenda tutti questi curriculum ed è paradossale come dice lei cioè questi ragazzi dovranno andare via ma lei che ha esperienza a prescindere comunque non lo trova questo mi fa capire una cosa che la situazione economica è in un momento di veramente di grande recessione di grande grande recessione il numero delle persone che vi ho detto prima 8.000 erano 8.000 che avevano un isè inferiore ai 3.000 euro scusate che era il range del REI è 6.000 a quello del REI però è quello arrivare a 9.000 che è il nuovo range che dà il reddito di cittadinanza significa che ce ne sarà almeno un 50% in più se non il doppio quindi la recessione economica secondo me è quella che sta governando questi meccanismi malsani va bene mi sa che chiudere poi magari possiamo fare se siete interessati una seconda volta abbiamo come ospite Nicola Ruzzito che invito nella parte centrale che ci canterà una canzone oggi sono io sì sì attendiamo tranquillamente non c'è problema non funziona e non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore e dirti tutto di me ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca non riesco a dirti neanche come stai come stai bene con quei pantaloni neri come stai bene oggi come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare e rovinare come vorrei poter parlare senza preoccuparmi senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente dirti solo una parola ma dolce più che posso come il mare come il sesso finalmente mi presento e così anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione e domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci solo per portarti a letto e non me ne frega niente se non è successo ancora aspetterò quando è il momento non sarà una volta sola ma spero più che posso che non sia soltanto sesso questa volta lo pretendo preferisco stare qui da sola che con una finta compagnia e se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore amore sia e non so se sarei tu davvero o forse sei solo illusione però stasera mi rilasso penso a te e scrivo una canzone dolci più che posso come il mare come il testo questa volta lo pretendo perché oggi sono io oggi sono io oggi sono io grazie 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 Nicole fantastica come sempre devo aggiungere una nota in questa location perché io ti ho sempre sentita e ti ho presentato più volte nei musical l'Albia Music Festival qui a a Olbia però sentirti in questa stanza con un'acustica che mi avevano già detto fantastica è bellissimo e ti ringraziamo di questo momento grazie mille Luisa e grazie ovviamente ai professori e ai dottori che mi hanno dato l'opportunità di potervi offrire questo brano e spero di avervi emozionato grazie abbiamo fatto le 20 e 30 è stato penso un momento ricco ci chiudono e volevo comunque ringraziare i nostri l'autrice la nostra scrittrice come voglio chiamarla io no no veramente e e chiaramente il pubblico grazie a tutti e vi invito al prossimo evento della primavera con gli autori grazie grazie grazie